salve a tutti salve a tutti ragazzi buongiorno da investire.biz vincenzo penna oggi mercoledì 10 maggio siamo ovviamente di nuovo nella rubrica caffè mercati come di consueto tutte le mattine andremo un attimo a fare il punto della situazione come come sempre sui mercati finanziari quindi partirei come come sempre dal calendario economico quindi mi sposto subito sul sito sito investire.biz vi ricordo calendario economico e vediamo un po oggi che cosa che cosa ci attende la giornata di oggi allora per quanto riguarda le notizie di oggi molto molto importante che sicuramente condizionerà tutta la settimana attuale è l'inflazione per gli stati uniti quindi l'ipc sia mensile che annuale quindi headline e core per quanto riguarda l'inflazione attesa al 5 per cento alcuni la attendo al 5 1 altri a 52 quindi tra il 5 il 52 per cento ricordiamo come l'ultimo dato stampato è stato del 5 per cento quindi un'inflazione che comunque si aspettano almeno gli analisti che non decresce e non torna a risalire quindi vedremo vedremo un attimo come si comporterà come sarà il dato come si comporterà ovviamente il mercato nel caso di questi eventi che sono molto importanti daranno sicuramente un'enorme volatilità quindi per chi ama trattare le notizie ore 14 e 30 per chi magari vuole essere un po safe vuole restare lontano dai grafici vi consiglio magari di operare dopo l'apertura della sessione americana quindi all'incirca alle 15 e 30 detto questo mi sposto sul grafico perché ovviamente quali sono gli strumenti che potrebbero potrebbero diciamo giovarne da questo da questo dato è tra tutti ovviamente il l'indice del dollaro americano quindi il dxy del dxy abbiamo già parlato la scorsa volta vediamo appunto come è ancora il range in tutta quest'area che va tra 102 5 e 100,5 all'incirca quindi ancora in un range operativo di all'incirca un 2 per cento 25 punti in più 25 punti in meno e finché non esce appunto da quest'area come ci siamo detti l'altra volta è molto molto difficile effettuare qualsiasi tipo di analisi l'unica cosa che possiamo vedere che molto molto interessante è che non riesce comunque a trovare ulteriore forza ribassista infatti questo livello è stato testato una prima volta a metà gennaio la seconda volta a inizio febbraio quindi tutta quest'area che va dal da fine marzo fino ai giorni attuali quindi è un'area che comunque sta venendo testata e non poco quindi per adesso pare aver trovato una sorta di equilibrio e pare che stia cercando diciamo di ripartire ovviamente parliamo sempre di breve termine e non di lungo perché per ripartire di lungo il livello di riferimento è sempre questo quindi sempre 105,85 da dover rompere per quanto riguarda il livello di breve termine ce lo siamo detti anche la scorsa volta è area 102,5 quindi finché non rompe questo livello io ovviamente non posso parlare di inversione rialzista sempre sul breve slash medio termine quindi che cosa succede un dxy che potrebbe andare a riapprezzarsi con magari un'inflazione più alta del previsto porterebbe un euro dollaro che invece si va a deprezzare perché ovviamente se si apprezza il dollaro visto che con l'inflazione alta c'è più spazio di manovra per aumentare i tassi di interesse con tassi di interesse più alti la moneta comunque si va a rivalutare ovviamente l'euro dollaro si svaluta si svaluta quindi vediamo un po i livelli operativi da poter trovare eventualmente short per quanto riguarda l'euro dollaro allora se euro dollaro è successa una cosa molto molto interessante vi ho segnalato tutta quest'area di forte rifiuto da parte del prezzo quindi tra area 1,11 1,19 all'incirca 95 e 1,10,4 area di forte rifiuto sul daily quindi livelli tecnici molto molto importanti fondamentali per il prezzo che cosa è successo è successo che l'ultima domanda quindi l'ultima zona che ha generato l'ultimo massimo che appunto questo qui è relativa appunto a questo livello che vi ho segnalato con la retta in blu quindi che cosa mi sono detto che qualora questo livello fosse stato rotto a ribasso quindi l'ultima zona che il prezzo dove il prezzo ha trovato diciamo forte domanda il riacquisto qualora fosse stato rotto avrei valutato operazioni ribassiste cosa è successo che proprio nella giornata di ieri questo livello è stato rotto con la candela con la chiusura della candela di ieri è vero che è stato rotto con una chiusura al di sotto di pochi pip infatti parliamo di un 5 pip al di sotto però io comunque la considero una rottura sul daily anche perché sul daily comunque parliamo di livelli importanti e non è che abbiamo chissà che rotture che rotture ben marcato quindi per adesso per me è una rottura ovviamente come mi vado a posizionare il short mi posiziono vedendo magari qualche livello interessante sul 4 ore allora come entrata mi sono segnalato diciamo vi ho segnalato queste due zone che sono 109 87 5 e un'altra che sono 109 e 80 quindi più o meno i livelli attuali quindi già dal livello attuale si può pensare di fare un piccolo ingresso e poi magari andare ad incrementare qualora il prezzo andasse verso l'alto ovviamente fate molta molta attenzione col dato di oggi però più o meno questi sono i livelli operativi allora lo stop loss ovviamente è da mettere subito dietro l'ultima supply l'ultima zona di offerta di riferimento che appunto 1 10 e 58 e come target operativi ha segnalato le zone diciamo le le zone più prossime per quanto riguarda i livelli di supporto quindi 109 23 quindi questa area qui è 108 43 per quanto riguarda il primo target è un trade con rischio rendimento 11 per quanto riguarda il secondo target rischio rendimento 12 poi ovviamente dipende un po da voi se volete essere un po più aggressivi o più conservativi anche per quanto riguarda lo stop loss infatti uno stop loss aggressivo potrebbe essere messo nella zona di 1 10 e 0 7 anche perché è un'ottima zona psicologica quindi questi sono i livelli operativi e ragazzi io come sempre vi saluto vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti ciao